Questa bella stagione e fino adesso cosa ha portato? Fino adesso ha portato l'entusiasmo dei colleghi che si sono convinti della bontà e della necessità soprattutto di aggregarci in un centro commerciale naturale. Noi un mese fa abbiamo fatto un attimo di festa per presentare alla cittadinanza e coloro che ci hanno visitato, diciamo, quelle che erano le nostre intenzioni e quello che vorremmo fare in futuro. Adesso, passato questo un attimo, è chiaro che ci dobbiamo impegnare su cose molto più importanti cioè raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissi con l'atto costitutivo in primo la fidelizzazione dei clienti attraverso una fidelity card attraverso delle politiche di marketing comune in modo di creare un forte segnale verso quelli che sono i nostri clienti tradizionali quelli che potrebbero essere ulteriori clienti da attrarre in queste zone soprattutto verso i turisti che affollano ultimamente in maniera piuttosto importante quelli che sono i bed and breakfast e gli agriturismi della provincia. Proprio in questo settore stiamo facendo o iniziando un co-marketing proprio con queste strutture per far sì di dare al turista, oltre al piacere di visitare una città storica come quella di Gorizia anche la possibilità di fare degli acquisti a prezzi convenienti perché praticheremo degli sconti particolari ai turisti che verranno a visitarci. Quello che conta c'è grande voglia, grande entusiasmo ma soprattutto il fare, il fare che è una cosa molto importante a vista il tempo. In momenti di crisi come questi, dove la situazione congiudorale è ancora tuttora pesante si tratta di inventarci nuovamente un modo di lavorare cosa che fino adesso non era possibile perché tutti quanti pensavano al proprio negozio l'unica soluzione è proprio creare un network di negozi e proporsi in maniera univoca in modo da poter fare un'unione che sia piuttosto forte non solo nei confronti della grande distribuzione ma anche nei confronti di quelli che sono gli interlocutori pubblici, gli amministratori. Insomma domanda e offerta ma soprattutto risposta. Sì, sono perfettamente d'accordo. Domanda ma soprattutto un'offerta sempre più ricca e sempre più qualificata. Grazie a tutti.